Verranno dall'Albania, dalla Bulgaria, dalla Germania, dall'Indonesia, dalla Lituania, dalla Repubblica Ceca, dalla Serbia e due dall'Ucraina. Sono nove gruppi folk internazionali che parteciperanno al XIX Festival Internazionale I Bambini del Mondo, in programma da Grigento dall'1 al 6 marzo prossimi. Si tratta di gruppi di altissimo spessore artistico e culturale, precisa il presidente del festival Giovanni Di Maida, e nel loro repertorio sono inseriti canti, danze e musiche dichiarati patrimonio immateriale dall'UNESCO. Ad aderire all'edizione di quest'anno sono anche i gruppi agrigentini di Gergent, Oratorio Don Guanella, i piccoli del Val d'Acragas, Fiori del Mandorlo, Fabaria Folk, Herbessus e Triscele. Come ormai da tradizione, il festival organizzato dall'AIFA darà ufficialmente il via al mandorlo in fiore. Per il terzo anno consecutivo, I Bambini del Mondo ha ricevuto il patrocinio della Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO in considerazione dell'alto valore culturale ed educativo dell'iniziativa. Il primo appuntamento è per sabato 2 marzo ore 10. Lungo la via sacra della Valle dei Templi, i gruppi folcloristici internazionali, insieme ai gruppi agrigentini e agli studenti provenienti da diverse parti della Sicilia, daranno vita alla passeggiata della pace e della fratellanza. Quindi, alle ore 12, il primo spettacolo presso il Tempio di Giunone.